Anfaccia a tutti ragazzi, qui accadono e bentornati in un nuovo video Oggi siamo in un nuovo video, canne solo mid con arimid ragazzi E vi volevo dire un'altra cosa, credo che il prossimo champion che comprerò ragazzi sarà Lee Sin Ok, Lee Sin Vi volevo dire un'altra cosa, il bene è stato bannato, il main è stato bannato per 14 giorni Già ve l'ho detto in un altro video, però ve lo ridico L'8 settembre alle 11 di sera lo sbannano Sto facendo tocchiù con questo Rengar, che ho incontrato prima non solo più Ma mi pareva bravo, ho detto, beh, lui mi ha invitato in realtà Ho detto, beh, famola, due, così E via Sono Platino 5 ragazzi, la promo che ho fatto vedere è solo quella che ho perso Ho preferito farla da sola con musica a palla per concentrarmi al massimo e carriare questi storpi Poi ho incontrato questo Rengar e l'ultimo abbiamo vinto easy Io ho vinto la mid, lui ha vinto praticamente tutte le altre linee, quindi via Ragazzi Vediamo quanti punti prendiamo In Platino 5 Dalla parte che si prendono meno punti Già che ne prendiamo 25-26, dalla parte se ne prendono meno Vuol dire che dalla parte se ne prendono meno più ne prendiamo 30-31 Questo vuol dire che 6 match e si passa la divisione 6 match, 6 match, 6 match, se prendiamo così tanti punti in realtà Potrebbe essere anche che ci faccia schippare da Platino 5 a Platino 3 Non lo so Speriamo in pene Ah, Tristana mid a D Ok, mid Allora, è buono come pick per l'early game Forse anche a livello 6 A livello 6 io non ho tutto sto bust Ce l'ho ulti per carità, però non ho tutto sto bust che posso shottare Ah, Rita, sì Mi hanno finito le ciotte ristrette Oh, ho perso 2 milioni Lei vuol dire un attacco Ho perso 2 milioni Molto good, boys Voglio uscire la guida prima di lei Ho perso 1 milioni o una cazzo di cane? Un lopo Dai, concentriamoci, boys Allora, la cosa che devo fare contro Tristana è non mandare i miei miei Mamma mia Oh, bravo E poi è francese, raga Infatti ho detto francesi, rengar Boh C'ho qualqu'altra che non mi cosa Non like, mate Ha flashato a grabbato Se no saremmo fatti Tristana Pensate che volevo flashare E prende Tristana di down Non l'ho fatto Ma sta là sotto Tristana? No, non mi dico che prende una kill Minchiazzo Facciamoci porto a sto canone Facciamoci porto a riperto Non mi importa se prendo il minion o non lo riprendo Devo pushare la wave per fargli perdere il canone Sotto torri Il canone l'ha perso Non sotto torri Però l'importante è che l'abbia perso Regaliamo Ho perso un bel po' di minion Però non è un problema Quello che ve lo fa io Lo fa gliel'ex per lei Infatti l'ho levata Tanto che lei ancora Non farà il 4 pop Questa poi Io invece lo faccio Quindi ora regaliamo Doppio torno al string Qua una pinca tattica E andiamo Via Ok perfetto Io Ah la scandal Mate Non hai neanche il tp ero Ah ma se l'hai preso Alla fine Alla va bene Ci sta Vuk top Vai tutto fast Eh non dovevi pushare però Ma il fight Pange in fondo del cazzo Io lo conosco molto bene Quel champion Sono un coglione Sono un coglione Ti sta regalata A noi Fiamo perdere anche St'altro cannone Dagli un po' Eh ho perso anche io Sto cannone Quindi vediamo Deve farglielo perdere Da lei Ma come cazzo l'ho perso Sto finendo Numera di minio Ma lo Che non lo so Quando stream Faccio video Ragazzi Gioco male Però non vi preoccupate Oh Brutto coglione Va verso destra Eh sta andando a guardare Tristana Ha guardato Volevo invaderlo A Vuk Però ha guardato Ho visto che sta andando Verso Alla Ho detto È venuto perso Da di là Quindi se ora va leggermente A destra Vuol dire che sta andando Wolf Infatti sta andando Wolf C'ha un po' Di vita Per fast Quindi sicuramente Si sta a fare Quanta farm ha Lei? Vole proprio più farm Lei Comunque potrebbe Per più farm Però Ha due torrent Split e un po' Di questione Io ho la pink Che metterò qua Perché Vukong Secondo me Gank era probabilmente Molto Molto top Bot Anche se in realtà Bot hanno Morda di carry Ragazzi non è un troll Ma sta veramente Spopolando questo Champion Di carry Comunque Bot hanno Bracecrank Quindi in realtà Vukong Potrebbe gankare Anche bot Bracecrank Hanno un bel Engage Perché perde tutti Trissimino Resta dove sei Baby Vedete il problema È che io Lei deve andare a Donare un attacco Spero con una mare De mana Però va bene Ma che Ma che Che sei Questo lag Faccio avanti e indietro Mi serve Il blu Più presto Quindi robo Ciò sta Wave Regalo Così siamo Pronti Per prendere Il blu Non ho paura Di questi danni Ora Alla Chi Ok Non penso C'è questo Vukong Dimmi che Allora Credo che Dopo il morello Mi farò La zonia Invece Che l'eco Morello Zonia Tanto hanno L'unica p Che non Mi prende Però Fio mio Sei un po' Stronzo Troppo Se sta a fare Morello Malphite Di Di Ma Più Fanno Di me Ho Restano Aspetta che la Dove Da un attacco Perché Sennò Probabilmente Infatti Sono uno Stronzo Madonna Non riesco A fare Messe Tommino Per bene Pure il canone God Voglio Donnerlo Qua Perché Voglio Aspettare Hengar Tant'ora Ce lo Chigliamo Questo Nice Mate Il loro Blu Il loro Blu Il loro No no Qui 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 Veloce 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 Non lo posso lavorare con la pink Mi killano Mi killano se la lavora Sarebbe stato buono farsi vedere nella zona In questa situazione O forse avere un mare bot con Hengar Però non avevo la ultima Non avevo neanche il flash Volevo Non volevo rischiare Poco a fare Mi devo fermare di più Proprio bravo Sto Rengar Gianna Gianna L'hai levato dalla Q Gianna Gianna Che cazzo hai fatto Vieni vieni Eh Ti metti Ti metti I tre Minion Per l'iscia Halt Chi è Metti Ti metti I tre Minion Metti Sei molto Più a like All'alike Però Ora Io andiamo a rimuovere Sto pink Anche se All'altra stiamo Senza Fatti Vukong Guarda C'era Vukong L'avete visto Il bastardello Arrivo Top Prendo Top Rengu Vieni top Ok regala In back No È rischioso Sto prank Perché vediamo Una marra di cose Guarda Io mente Quanto Fa un petto Mid down No Ok Non so se C'è Glia Ora So già Che cosa Voleva Ritostare Nice mate Se vedete Dopo che facciamo Visto che noi siamo Dei bravi spammerini Dopo linkiamo Il canale Adali Adagali Ci facciamo Un po' Big money Un avviso in più Non è mai male Tristana Tristana sta giovaletto La metto Col foro Si è stata molto Porco Porco dici Ho sbagliato Non va bene Questo non va bene Boh Ormai abbiamo recuperato Tutta la partita Dopo abbiamo fatto My bad Che regalo qua Io brutto strunzo Non so Non mi faccio Scalpe magic Magic pen Che cazzo sto a fare Buoni tutti Faccio questo E mi faccio Magic pen Ok Allora fammi pensare La farm Dai sta a posto Non è neanche Tanto male Rengar è bravo Mi piace mangiare Ho aggiunto anche Amici 2Q in can Lui è stato Rengar Arrivato Midquari Vaffanculo Manuari Comunque ragazzi Voglio dire che Appena avrò L'IP per l'ISIN Me lo comprerò Questo mio champion Sarà l'ISIN Lo giocherò Mid Ragazzi Ragazzi Giocherò L'ISIN Mid Allora E io solamente Due livelli sopra Che mu faccio l'ISIN Anche se lui facesse il nuovo Adesso Che non lo fa Tra l'altro Non lo fa Non l'ha fatto Boys Sei molto all'Akid Stana Mette Ma che cazzo Marf Morello Ragazzi Il mondo Di Youtube Italia Per quanto Riguarda L'Od Ragazzi Ora vi faccio vedere Come si ottengono I Bipremoni Pian piano Trovi questi iscritti Italiani Queste persone Italiane Che non sanno Diciamo Chi sei Spammi il canale Dicono Tu stai Non vedi oggi Tu stai Non vedi oggi Sono Un Youtube Dopo Se fino Cerca Il canale Per Il 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 Adesso Vai Caricare Non Seguo il Il mondo Italiano Io Metto Cioè Forse Straniero Cioè Italiano Ma Origini Stranieri O forse Semplicemente Italiano Non segui Youtube Italia Il problema Eh ragazzi Vedete anche Perché Youtube Italia È così Piccola Perché Se vogliono Gli italiani Possono Non seguire Youtube Italia Ma gli stranieri Non possono Non seguire Youtube Di quel Paese Per sicuro Youtube Italia Ma That Fail That Fucking Fail Tanto Oh My Bad Ho Feralato Il Tanto Come Un Mungo Indicappato Stronzo Vendict Sparcalo Rengar Oh Lucky Bravo Bravo Bici Dai No Rengar Però Stato Bravo Gangplank Da quella Parte Però Rengar Se lo Poteva Quella In realtà Forse però Sarebbe morto Anche lui Beh Bella Stazione Dai Sarebbe Abbastanza Bella Guardate la Farm No Forte Stiamo Fatti Ah Attacchi L'ho Puro Norsi Sono Prima Non Non è che Perché Se avvince Fiamo i Guatti Raga Raga Ragazzi Non potrete capire Che mi è successo adesso Hai presente quando Magari voi sentite un rumore No? Sentite un rumore No? A un certo punto Se ti do Tipo il suono Il fischio delle orecchie No? Il fischio delle orecchie Regà Assurdo Mi sono messo paura Vi giuro Mi sono messo paura Perché Stava Tanto rumore Del ventilatore Delle ventole del pc Mi sono messo paura Mi 3 Ci danno gli ulti Non si sa perché Ci stanno questi bug Dari però No non mi ha fatto la zania Vabbè Ecco Ole Ma poi Il fight è forte Sta 2-3-1 In parte c'è più fan Però In teoria ma il fight È un po' scandaletto Qua ho sbagliato io Volo ce sa Ma un poco Non avevo visto Malfetti che mi sa E via I'm my the only one Niente Solo tu Like E la tua Connessione E i telecom Ragazzi Sto telecom o fastweb Abbiamo sviluppato il misterio Poco da fare Vediamo subito Che connessione Addentriamoci nel mondo Della connessione Non laggo mai Fastweb Ve l'avevo detto Predict Predict boys Is predict Vedete dietro Molti mi chiedono Cane Perché c'hai riflesso Dietro Cane Ecco il perché Ragazzi ora voi In questo istante Andate a mettere Follow su Instagram Adesso In questo istante Go 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 Ragazzi ancora non l'avete fatto Ti ho visto che ancora Stai guardando il video Posso tardarti dopo Certo facciamo Facciamo portire Le Tantabuf Ho dato solo L'engar ma Di scritti Noi Go Lo Lo Ro Noi Lo L'engar ma E Io ho doggiato la ultimate Ma bot è sta fida come la merda No, non sta no mid bot Ok La push, ma cazzo le trega push La push La push Ho presi due, non ho presi Lo so vedere, vedi qua Ma fai te ci muore Mi ha fatto l'odore cool Cazzo è che provi di animid e ulti Oh Pensavo non ci arrivasse il normal attacco Invece c'è arrivato Spero tu Spero che tu riesca a scappare Usare W Posiedi da velocità a te E da slow a lui Ho sbagliato io Ma che palle Sto facendo degli errori Della madonna Non ti girare Non ti girare Morte cazzo deve essere fermato In fight Fagos morte Easy Usiamo Morte cazzo E via dentro di stana Stato 8 fuori del gioco L'unico po' che ha problemi È Morte cazzo E Morte cazzo Morte cazzo Morte cazzo Perché la si che diventa un vero problema poi Ok Ok Che cazzo? Ma che ha fatto Malphite? Matto! Arrivo l'olta dietro, arrivo l'olta dietro Ma Tristana, ma dovresti sapere che Dovresti sapere che la signorina Gaglia ha tipo 8 jump, eh Allora Ho ferrato un altro hotel tanto, devo aspettare ancora un po' Andavo a chiudere là, o devo andare a chiudere qua Il problema è che non riesco, non c'è tanta Non gli faccio danno, ovviamente C'ho lo scudo che è Non lo so Dobbiamo gruppar qua Questa va a fine che la brudiamo Alla chi? Ah, sorry No, no, one versus one Eh beh, certo Ragazzi Si sa che l'olio è un gioco uno versus uno Cioè se viene un altro ad aiutare l'amico suo non è più l'olio Ragazzi Come giocate? Mio Dio, il decode grande Ragazzi Se l'avrebbe preso Se l'avrebbe o l'avessi Se l'avessi preso Se l'avrebbe avuto Se l'avessi preso ragazzi Mi sa che andava a finire tanto male per il cortino nostro Don't do shit Let your dreams dreams Mr. Me Noi si prepusciamo C'è un blu loro Dono 70 non fa cavolate del genere Non fa cavolate del core C'è il flash già no? Ok Che culo Tu adesso hai fermato a grabà Questa è una zona allo shot Ok 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 Ho sbogliato, non mi ha fatto il ritorno della Q Su Tristana Unlucky Ci serve il drago intendi? No, te lo facciamo I privati Su, su, su Uè, uè, chi è? Uè, uè, uè Uè, uè Uè, uè Ho shottato da Tristana Ragazzi Se poi mi sarebbe venuto addosso Io solamente Bravo, qualche Andiamo da soli Ma certo Ma certo Non ci va a fare Mi ha male che c'è il nostro Rengaro Loco Ti è Ti è He does what he wants Guys, we should group Ho detto 8 ore fa Perché stracazzo Se è andato da solo Eh Drayton bar D'altro abbiamo tutte le T2 Quindi Brava, brava Spera che tu abbia abbastanza danno però Ok Innanzitutto abbiamo un free Oh Piccola che Allora abbiamo un free Drago Il motore fa Lengar Tanto non ha Nobukong E ci dobbiamo fare anche il Baron dopo Il TP, il TP, il TP Bye 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 mate Boo Alla chi Come se sto bar La prendi sto rosso Qui ora entra qualcuno Vai Nice ragazzi Questa partita ora è vinta Prendiamo il Baron Abbiamo vinciuto Sì 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 Andata andata Rengar ma dove cazzo vai Vedete quell'item rosso che è Mordgeiser È OP Guardate eh Questo item è qua È OP Guarda perché Rengar è fiddato e sciotta E pure pensate guarda la vita che gli ha dato Mordgeiser Cioè Comunque se non me più di gare dovrebbe essere giocato top Cioè perché dai è forte perché c'è la possibilità che prende tutta l'expa A questo punto fai il jungler top un attimo e vedi Lo fai babysittà tipo capito Tanto l'expa non te la frega Se no tipo lo fai rimanere qua dentro Per dirti no Ancora sti cazzi L'avevo presa a tristana L'avevo presa a tristana Stavamo divisi Pugnino per cazzi tua Ma possiamo opetare Possiamo opetare Possiamo opetare Possiamo opetare We can We can We can We can We can Stay in Un buon super minion qua Eh andiamo a far su un problema Mordì Che cazzo fai là? I'm the god I'm the god Cazzo che ho fatto Tutti i rengar good job Io non ho fatto Una bella azione Su tristana Non conto un cazzo Vediamo se abbiamo preso Almeno 25 punti Vediamo un po' I'm curious 28 punti 28 punti Dalla parte che ne prendiamo Di meno Cioè vuol dire Che se andiamo dall'altra parte Ne prendiamo 32 34 Ragazzi spero che il video Vi sia piaciuto Invece di lasciare un bel like Se vi ha commentato Se vi ha condividete Anfaccia a tutti i ragazzi C'è un buon Bella